in ritardo matteo oggi è arrivato tardi a scuola bussa alla porta avanti esclama la maestra matteo entra in aula e la maestra lo fissa con i suoi grandi occhi azzurri se in ritardo gli dice che cosa è successo mattino vorrebbe dire che la sveglia di casa un po matta perché a volte suona e a volte no invece chissà perché dice che la colpa è di quel leone che ha incontrato per strada